Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria 3 km di coda tra Calenzano e Barberino. Sulla Fibili per lavoro di messa in sicurezza del viadotto Ponzano all'altezza del km 24, chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze con possibili disagi. Possibili disagi per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze nel tratto compreso tra Monte Rigioni e Siena Nord. Sulla A11 in direzione Firenze l'area di Serravalle Sud sprovvista di GPL per un guasto. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per il restringimento della carreggiata all'altezza del km 287 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. vi auguriamo un buon viaggio.